crederci sempre a prescindere da tutto dallo Stato Olimpico di Roma benvenuti a Lazio Sampdoria voliamo alti via partiti per questo match di lui sempre Strinic quindi Milinkovic va al cross attenzione dentro verso Lucas Leiva davanti alla porta spedisce alto dentro Duvan Zapata palla di Torreira di testa Milinkovic poi Barreto Stracoscia attenzione Torreira palla dentro ancora e poi spazza via Lulic dopo l'intervento di Milinkovic una paratona di Stracoscia non era facile ancora per Radu al cross dentro verso Milinkovic Lazio in vantaggio con il gol di Sergione che fa cifra tonda al 32esimo Milinkovic l'ha messa dentro col numero 10 capionato per Serghei Lukaku versante di sinistra sempre lui quindi Lulic quando la cross arriva adesso dentro verso Immobile attenzione Lucas Leiva la palla viene bloccata sulla linea da Ferrari forse sarebbe uscita ancora Marucic sempre lui poi palla ottima per Felipe Anders cerca il tiro e porta Viviano lascia lì il pallone occhio Immobile 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 Viviano la palla rimane ancora là e poi Ferrari spazza via con grande affanno Felipe Anders una spizzata attenzione la palla è per Marucic Viviano un miracolo clamoroso al 42esimo una buona risolta per De Frey ancora Steph per il 2-0 Bianco Celeste Stefan De Frey fa vibrare ancora una volta i cuori Bianco Celesti 2-0 ma che Lazio finisce il primo tempo 2-0 per la Lazio applausi convinti da parte del popolo Bianco Celeste qui all'Olimpico 6 gol in stagione occhio adesso a Sapata sul fondo il Sampdoriano cercato il pallo più lontano blocchiato da Lucas Leiva ancora però va avanti attenzione ancora la Sampdoria con Naschi terra la parata di Stracoscia Lucas Leiva quando la cross arriva adesso attenzione ancora il momento è dentro il colpo di testa però era alle sue spalle di Caceres voleva il primo gol con la maglia della Lazio all'Olimpico cross che arriva adesso di testa Lucas Leiva Viviano non benissimo poi Milinkovic deviazione e Caceres metterà un passo fuori c'era forse anche il fuorigioco occhio che dietro c'è Ciro occhio che c'è Ciro Milinkovic dietro verso Immobile eccolo qua il gol di Ciro Ciruzzo Milinkovic gli va a dire hai visto che segni anche oggi hai visto che la palla buona te la do hai visto che segni il gol numero 28 il campionato Ciro Immobile risponde così a Mauro Icardi è il gol numero 3 della Lazio al quarantesimo della ripresa all'ottantacinquesimo Nani sempre lui dentro ottimo tocco verso Ciro sul fondo era fuori gioco però occhio adesso a Nani è partito Ciro occhio Immobile 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 41 a livello personale in stagione allunga ancora su Icardi 29 il campionato un fenomeno Ciro Immobile ed è il gol numero 40 per le coppie offensive senza recupero finisce qui il match 4 a 0 ovazione per la Lazio 4 a 0 lo scorso anno finì 7 a 3 tra Lazio e Sampdoria 4 gol di scarto anche oggi 4 a 0 della Lazio sulla formazione blucerchiata 11 in stagione Grazie a tutti